Si sale sopra 2000 metri dopo la doppietta etappe da volata Salerno-Napoli e dopo la splendida avventura della coppia Clark-De Marchi in etapa di ieri seguita dalla vittoria di Mats Pedersen sul lungomare di Mergellina. Il gruppo affronterà oggi la prima salita oltre 2000 metri in questo Italia il Gran Sasso tornando su da Capua in Campania alla Neve del Molise passando attraverso l'Abruzzo e costeggiando il Parco Nazionale della Maiella c'è il GPM di Roccaraso a metà percorso 7,3 chilometri al 6,1% un lungo fondo valle poi su verso il Gran Sasso d'Italia campo imperatore prima c'è da affrontare il GPM in seconda categoria di Calascio 13,5 chilometri al 6% poi una ventina ai chilometri vallonati con anche un po' di pianura prima del finale 4,4 chilometri all'8% e 6 chilometri in mezzo la salita finale a campo imperatore si arriva a 2130 metri potrebbe decisamente essere una tappa a fuga vista la situazione strategica con Andreas Lechnesund ancora in maglia rosa riescono ad evadere dal gruppo dopo qualche chilometro Simone Petilli dell'Inter Marché Circus 1T Davide Baiss dell'Eurocometa Enoch Mulubran della Green Project Bardiani CSF Faizanè e Karel Vacek del team Corratex L Italia allo sprint intermedio ancora una volta dietro vince Mats Pedersen che guadagna 4 punti per tutta la giornata ovviamente sta davanti il team DSM e a questa fuga che perde Mulubran salendo verso Roccaraso e rimane di 3 vengono concessi vantaggi gargantueschi è una giornata di relax in gruppo Samuile Battistella distribuisce arrosticini nella terra degli arrosticini l'unico sussulto nella salita di Calascio è che Stefan Küng si porta dietro Thibaut Pinot che guadagna qualche altro punticino per la sua maglia blu ma dietro non si mette mai nessuno a fare il ritmo le squadre dei big stanno a guardare tutto il giorno la fuga arriva a 13 minuti hanno abbastanza tempo per giocarsi la volata alla fine prova a partire Pepetilli che però si pianta dopo qualche metro c'era già staccato prima Vacek che cede allora Davide Baiss ha una gran gamba e ha spazio per andare a conquistare la sua prima vittoria in carriera al Giro Italia a campo imperatore Eolo Cometa nuovamente vincitrice al Giro Italia con una vittoria che ricorda quella di Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan arriva secondo Karel Vacek che l'anno scorso stava per ritirarsi dal ciclismo e qualche anno fa nelle giovanili combatteva con Remco e Venepul ad armi pari no contest assoluto del gruppo fino agli ultimi metri volatina per i punti UCI vinta da Remco e Venepul su primo Zroglitz ma le gambe dei big non sono state minimamente testate oggi nessuno si è mai preso la responsabilità di tirare a parte il team di SM Davide Baiss può godersi una vittoria assolutamente storica per se stesso e per la propria squadra e Alberto Contador ha esultato così il proprietario della Elo Cometa insieme a Ivan Basso è una delle persone più felici del mondo dopo questa tappa primo Baiss secondo Vacek terzo Petilli prima di oggi avevano zero vittorie fra i professionisti professionisti sommate fra tutti e tre una giornata assolutamente da ricordare per loro Remco e Venepul non è stato minimamente messo in difficoltà dalle altre squadre oggi così come Andreas Lechnesund l'uomo più a nord di sempre ad indossare una maglia rosa che la mantiene ancora fino a domani per la tappa di Fossombrone la classifica rimane pressoché invariata dopo una giornata nella quale sembra essersi messi d'accordo fra le varie squadre per far andare una fuga tranquilla e non doversi sprecare troppo Petilli aveva quasi otto minuti in classifica generale ed era quello messo meglio dei quattro che sono stati lasciati andare inizialmente domani c'è una tappa molto interessante i 207 chilometri con dei bellissimi muri nel finale nelle marche i cappuccini è una salita di 2,8 chilometri al 7,7 per cento c'è da affrontare due volte l'ultima a sei chilometri dall'arrivo potrebbe offrire seriamente possibilità di attacco per i migliori uomini di classifica c'è anche il monte delle cesane in mezzo vedremo se ci sarà un po di movimento fra i big oggi è stata la giornata dell'euro comete di davide bais ci vediamo domani